Il messaggio che mi sento di mandare oggi è a tutte le donne che subiscono violenza di coloro donne, vi prego, ribellatevi, denunciate, solo così possiamo non morire. Mi sento di lanciare un messaggio anche fin da oggi ai ragazzini, ai bambini, che saranno gli uomini e le donne di un uomo. Vi prego, state attenti, state attenti quando credete di aver incontrato il principio azzurro. Anche io ero alla vostra età, pensavo di aver incontrato il principio azzurro ma invece non è stato usato, ci sono dei segnali fondamentali come la limitazione della propria libertà, libertà di vivere, libertà di essere semplicemente se stessi. Vi prego, cogliete ogni singolo segnale e se vedete che qualcosa non va in questo rapporto lasciatevi, lasciatevi prima che purtroppo succeda l'inimitabile. E mi sento anche di dire questa frase, accontentiamoci di un no se ogni tanto ci viene dato, dobbiamo accettare i no nella vita, perché anche avere un no oggi vuol dire incontrare la persona giusta domani. Vi auguro un buon Natale ricco di pace e serenità tutti i giorni della nostra vita. stop violenza, sempre. Ecco, bisogna denunciare? Sempre, sempre denunciare. Una donna deve andare in caserma, deve denunciare. Chiedo però allo Stato di aiutarci, di accompagnarci subito dopo la denuncia, di non lasciarci mai solo, perché è una donna che denuncia, è una donna che si sente la morte che cammina in cantella, ha paura di tornare a casa e per questo va aiutata e accompagnata durante la denuncia. Vediamo tutti i giorni, adesso cresce a dismisura questo femminicidio, uomini con uccidere le mogli e tante altre violenze sulle donne. Ecco, sei stata vittima di questo. Ecco, qual è il messaggio che mandi? Il messaggio che mi sento di mandare oggi è a tutte le donne che subiscono violenza tipo loro donne, vi prego, ribellatevi, denunciate, solo così possiamo non morire. Mi sento di lanciare un messaggio anche fin da oggi ai ragazzini, ai bambini, che saranno gli uomini e le donne di un uomo. Vi prego, state attenti, state attenti quando credete di aver incontrato il principio azzurro, anche io ero alla vostra età, pensavo di aver incontrato il principio azzurro ma invece non è stato l'uso, ci sono dei segnali fondamentali come la limitazione della propria libertà, libertà di vivere, libertà di essere semplicemente se stessi. Vi prego, cogliete ogni singolo segnale e se vedete che qualcosa non va in questo rapporto, lasciatevi, lasciatevi prima che purtroppo succeda l'inimitabile. Io mi sento anche di dire questa frase, accontentiamoci di un no se ogni tanto ci viene dato, dobbiamo accettare i no della vita, perché anche avere un no oggi vuol dire incontrare la persona giusta domanda. Vi auguro un buon Natale, ricco di pace e serenità. Tutti i giorni rivelazano, stop violenza, sempre. Ecco, bisogna denunciare? Sempre, sempre denunciare. Una donna deve andare in caserma, deve denunciare. Chiedo però allo Stato di aiutarci, di accompagnarci subito dopo la denuncia, di non lasciarci mai solo, perché una donna che denuncia è una donna che si sente la morte che cammina accanto a lei, ha paura di tornare a casa e per questo va aiutata e accompagnata durante la denuncia.